La Casa della Salute oggi è il pronto soccorso e questo secondo il mio avviso, rischiando di banalizzare, peggiora la situazione dei nostri pronti soccorso. E' il segretario provinciale della CGL di Arezzo Alessandro Mugnai ad esprimersi in merito alla situazione delle case della salute nell'Aretino. Sono in tutto 13 le strutture nel territorio provinciale di Arezzo. Si tratta di luoghi in cui i cittadini trovano i servizi sociosanitari di base offerti dal sistema sanitario regionale per garantire così la presa in carico globale della persona. Dunque le case della salute dovrebbero costruire una rete capillare di servizi intermedi al fine di evitare il ricorso al pronto soccorso. Ma qual è la situazione per quanto riguarda l'Aretino? Tolte alcune che sono veramente una in particolar modo, per esempio Castiglion Fiorentino che è una vera e propria eccellenza e poche altre, mi viene in mente Civitella, Bucine, in linea di massima abbiamo oggi delle scatole vuote. Questo lo devo dire, Arezzo nell'esempio. Dalla cassa della salute in primis ha bisogno di risorse, quindi siamo lì. Il vile maledetto denaro serve, non servono solo le idee. E poi oltre a questo bisogna che ci sia la capacità di coinvolgere i cosiddetti medici generali, insomma il medico di base, perché sono loro che comunque si affanno da collante tra il cittadino di quel territorio e comunque la struttura nazionale. È ovvio che la cassa della salute per ben funzionare ha bisogno di risorse, solo così può alleggerire tutto il peso nella struttura sanitaria, ma oggi non siamo a questi livelli. Penso che ricada il pronto soccorso ovviamente perché se per me è molto complicato farmi visitare dal mio medico di base, se per me è molto complicato rispetto a una presupposta, a un mio allarme, insomma, che io non trovo le immediate risposte lì nel mio comune, monto in macchina e vado al pronto soccorso. Già deve fare conti il pronto soccorso da cosa, secondo il mio avviso? Dal fatto che la mia adegenza quando vengo ricoverato, per esempio, a post-operatoria è più breve, breve a volte ovviamente perché la tecnologia è meno invasiva e mi permette di andare prima a casa, però abbiamo anche il problema che viene mandato anche prima a casa per problemi di sostenibilità dei costi e quindi dopo posso avere delle ricadute e ritorno al pronto soccorso. Grazie a tutti.